Ok ragazzi proseguiamo con la seconda parte della rivoluzione francese. Allora siamo arrivati al punto in cui siamo in un periodo veramente di crisi. Nel 1792 per la Francia inizia un lungo periodo di guerra. Perché? Perché visto quello che stava accadendo tutte le monarchie europee in realtà guardano con grande preoccupazione verso la Francia perché temono che cosa? Che quello che sta succedendo lì poi accada anche da loro. Ok quindi si sa che l'Austria la regina Maria Antonietta moglie del re di Francia era austriaca è pronta ad attaccare ad intervenire militarmente per riportare il controllo la situazione sotto controllo in Francia. Al che cosa succede? Succede che la Francia decide di dichiarare guerra all'Austria. Bene o male sono tutti d'accordo. Il re primo perché sperando di perdere così ritorna tutto come era prima. Ma sono d'accordo anche i borghesi. Ad esempio i foglianti dicono che in questo modo otterrebbero si risolverebbe diciamo il problema della crisi. Perché fare una guerra vuol dire far ripartire l'economia perché vuol dire che devi dare vestiti, cibo, armi all'esercito e via dicendo. Ci sono quelli di sinistra che dicono sì facciamo la guerra di sicuro la vinciamo. Esportiamo anche la rivoluzione fuori dal nostro paese. Facciamo ribellare anche gli altri stati. Insomma ognuno ha un po' le sue idee. L'unico che si oppone fermamente è Robespierre. Robespierre dice è la cosa più stupida che si possa fare. Però nessuno lo ascolta e la guerra viene proclamata. Cosa succede? Succede un disastro perché appunto la Francia viene attaccata da più parti. Ma anche la gente all'interno della Francia si ribella. In particolar modo la regione della Vandea che era molto molto cattolica e che non ne può più della situazione diciamo che si è creata in Francia. Scoppia una vera e propria guerra civile. Francesi contro francesi. Quindi le cose diciamo così vanno male. Vanno male e allora cosa succede? Succede che la situazione precipita. Il re e poi dopo a breve la regina vengono uccisi. Soprattutto perché si viene a scoprire che loro stavano confabulando appunto col nemico per riuscire a provocare la sconfitta della Francia. Per cui loro vengono ghigliottinati. E a questo punto cosa succede? Succede che Robespierre che era stato l'unico che aveva detto che non era proprio il caso di farla questa guerra. Si prende l'appoggio diciamo del popolo perché quando tutti vedono come sta andando male la situazione soprattutto quando contro la Francia si coalizzano non solo l'Austria ma anche la Prussia, gli stati italiani, la Spagna, l'Inghilterra, addirittura lo stesso Papa eccetera. Robespierre riesce a prendere in mano la situazione. Viene creato un comitato di salute pubblica perché il Parlamento che c'era non era in grado di gestire la situazione. Erano troppe persone che dovevano decidere velocemente e non riuscivano a farlo perché quando si è in tanti appunto non si riesce a decidere in fretta. Quindi comitato di salute pubblica con pochi membri a capo Robespierre di fatto decide tutto lui. Di fatto c'è da dire che Robespierre sistema la situazione, prende una serie di misure sul piano economico, politico, sociale eccetera eccetera che di fatto sistemano la situazione. Il periodo in cui Robespierre prende il potere viene chiamato periodo del terrore perché di fatto abbiamo una dura repressione interna del dissenso, cioè clima intimidatorio. Chiunque veniva sospettato di essere contro la rivoluzione veniva ammazzato durante il periodo del terrore che dura più o meno 10 mesi, 11 mesi. Vengono ammazzate un sacco di persone anche solo per una parola magari detta per sbaglio nella piazza del mercato. Bastava che il vicino ti sentisse, andava a denunciarti e tu eri morto. Quindi uccisi persone del clero solo perché ad esempio erano sacerdoti che magari non avevano fatto nulla di male. Abbiamo anzi in questo periodo una opera di vera e propria scristianizzazione. Ad esempio vengono cambiati i nomi dei mesi, vengono chiuse le chiese, viene rubato tutto l'oro che c'era dentro. Tra l'altro viene introdotto un nuovo calendario rivoluzionario che non partisse dal momento della nascita di Cristo e via dicendo. Poi ci sono anche una serie di misure che effettivamente riportano la situazione a qualcosa di positivo. Ad esempio l'imposizione della leva di massa perché prima l'esercito francese era costituito solo da volontari e questi volontari non bastano più. Robespierre dice che tutti quelli che hanno un'età che si possono permettere di andare sul campo a combattere devono venire. Quindi leva di massa. Il comando dell'esercito ad esempio che prima era dato solo ai nobili a prescindere adesso viene dato a chi è in grado di veramente a quei generali che hanno mostrato valore sul campo. Uno di questi sarà Napoleone e vedremo cosa combinerà. Dal punto di vista economico ad esempio Robespierre mette un calmiere sui prezzi. Cioè stabilisce ad esempio il prezzo del pane, non può superare tot, misure eccetera. E poi reprime anche la rivolta della Vandea. Reprime duramente la rivolta della Vandea. Quindi morte a go go c'è da dire che riporta la situazione sotto controllo in Francia. Quando però la gente capisce che adesso appunto la rivoluzione è salva, che è tutto ritornato più o meno normale, del terrore non ne può più. Infatti Robespierre fa la stessa fine che ha fatto il re e la regina. Viene preso anche lui e viene ghigliottinato perché lui continua a comportarsi come un tiranno, continua ad uccidere, a far uccidere un sacco di persone e a un certo punto stop. Quando lui viene ucciso viene poi riscritta un'altra costituzione, la costituzione del 95, che è la terza perché in realtà prima del periodo del terrore ne è stata scritta un'altra con il suffragio universale che poi in realtà non era proprio mai stato messo in vigore perché di fatto era partito il regime del terrore ed era successo appunto quello che sappiamo. Con questa nuova costituzione, attenzione, la rivoluzione fa un passo indietro nel senso che si ritorna, come vedete qui, ad un suffragio censitario. Cioè votano i ricchi, questa roba va bene ai borghesi. Il quarto stato viene messo ancora da parte, non abbiamo più naturalmente la monarchia perché il re è morto, abbiamo la repubblica e abbiamo un governo formato da cinque persone chiamato da direttorio, cinque direttori. Il Parlamento era diviso in due camere, un po' il Parlamento bicamerale. Quindi cosa succede? Voi dovete tenere presente questa cosa, questo movimento diciamo per quanto riguarda la rivoluzione francese. Si parte con una monarchia assoluta dove il re ha tutti i poteri. Prima parte della rivoluzione viene controllata dal terzo stato, ok? Abbiamo una che arriva a scrivere una costituzione con il suffragio censitario che appunto al terzo stato andava benissimo. Al quarto stato sta roba non va bene, abbiamo la deriva quindi rivoluzionaria con il quarto stato, con la violenza, con il terrore, con una costituzione a suffragio universale che non verrà mai messa in atto. Poi si ritorna invece al suffragio censitario. La situazione viene ripresa in mano dalla borghesia, ok? Quindi abbiamo borghesia, quarto stato, borghesia e ci fermiamo qua. In realtà poi vedremo che appunto negli anni del direttorio un giovane ufficiale che si era distinto durante il periodo del terrore, che era stato un bravo militare appunto, inizierà una grandissima carriera e diventerà addirittura imperatore dei francesi, per cui i francesi che hanno fatto di tutto per cacciare il re, che non ne potevano più di questo re con potere assoluto, poi si ritrovano addirittura un imperatore. Ma questa è un'altra storia e la vedremo più avanti. Ciao a tutti ragazzi!